è l'anno del milan è l'anno del milan guardate che spettacolo l'entusiasmo della curva sud l'entusiasmo rosso nero il pubblico straziante i numeri che portano questa squadra a poter vincere veramente questo scudetto mamma mia ragazzi anche contro la sfortuna anche contro l'imprecisione anche contro una squadra che sta lottando per l'europa e oggi lo ha dimostrato il milan riesce a vincere di corto muso 1 a 0 al san siro contro la violentina di vincenzo italiano che non riesce più a vincere veramente ormai uno score impotente quattro sconfitte consecutive dopo il 4 a 0 in casa contro l'udinese compreso anche la coppa italia e il milan vola 77 punti in classifica più 5 dall'inter che giocherà più tardi contro l'udinese ma è una corsa scudetto a vincente e quando vinci in questa maniera contro tutto vuol dire che sei forte e c'è poco da fare una partita che si stava rivelando quasi impossibile ma la vince così la vince con il gol di leao all'ottantunesimo minuto con il regalo di terracciano è parliamoci chiaro nel rinvio praticamente serve leao che se ne va tutto solo punta milenkovic e poi in sacca sul primo palo forse non togliendo forse a molte colpe il portiere viola però leao non puoi appunto lasciarlo in queste condizioni di tirare di andarsene perché straripante mamma mia mamma mia comunque oggi abbiamo visto una gara di alta intensità da entrambe le parti ma nel secondo tempo il milan ha meritato di vincere questa partita e questa squadra ha trovato il passo decisivo per arrivare allo scudetto cosa che lo scorso anno non avevano cosa che lo scorso anno questa partita non avrebbero mai vinta con tutte queste difficoltà e non a caso è la squadra che ha vinto più big match in questa stagione pioli ha dato un'identità da quando è arrivato step by step e si è arrivati quasi allo scudetto manca poco ragazzi manca poco dopo pochi minuti mi hanno annullato il gol a teo hernandez per posizione irregolare in partenza di messias bell'azione poi tiro deviazione carambola poi teo se la sposta in sacca ma il gol viene effettivamente annullato una fiorentina che era partita forte ma il milan poi riesce a prendere campo e oggi comunque magnan è stato determinante come al solito mette tantissima sicurezza per quanto riguarda la retroguardia difensiva sa lanciare le attaccanti fa volare i giocatori ed è un portiere veramente di cui non puoi pentirti di aver dato via donna rumma e io lo ribadisco nel primo tempo fa una gran parata su saponara pochi spazi effettivamente per entrambe le squadre che diciamo sono molto chiuse dietro e fanno bene senza rischiare una bella da parte dall'altra linea difensiva e quindi l'attacco fatica e non poco però poi nel secondo tempo il milan strapazza la fiorentina parliamoci chiaro con le tante occasioni create e anche divorate perché il milan doveva assolutamente poteva concretizzare di più perché le ha avuto un minimo tre palle gol sui piedi prima di segnare ed un calciatore determinante gol assist crea le occasioni manda in porta è veramente spettacolare questo calciatore se avesse un pizzico di più continuità sarebbe un campione vero però a inizio secondo tempo si divora un gol plateale da 8 9 metri dalla porta io non credo non posso credere a quello che ho visto un giocatore del genere a quel punto della partita non si può divorare un gol così mamma mia tutto solo non marcato si ritrova in una posizione incredibile un calcio di rigore in movimento la spara altissima veramente incredibile ma io sono contento per questa vittoria rossonera io voglio che vincono lo scudetto non mi piace quando le squadre vincono ripetutamente per anni lo scudetto e quindi va bene così ovviamente non sto dicendo che hai messo in casa forte mancano ancora delle partite da giocare ma il milan è squadra c'è poco da fare il milan è squadra unita e compatta e sa giocare a calcio un po' suppono e oggi è un po' suppone questo milan però con il segno di grazia riesce a trovare il gol con raffa leao mamma mia e precedentemente ma niente aveva salvato il milan perché sul colpo di testa di cabral che la gira fa un miracolo incredibile poi deve anche bloccarla perché la prende in due tempi la volentina ci ha provato sempre a testa alta esce nel giocare tranne la partita contro l'udinese che è stata veramente oscena e ora perdono colpi europa perché è vero rimangono al settimo posto e sappiamo che in questo momento e porterebbe alla conference league ma l'atalanta deve ancora giocare così come la roma che quindi si potrebbe proprio allontanare anche se ci sarà lo scontro diretto e probabilmente li faremo di svegliare noi vedremo però comunque oggi la fiorentina sicuramente non dico che poteva far meglio perché ha avuto di fronte il milan però perlomeno poteva non lasciare così tanto il palino del gioco alla squadra avversaria nel secondo tempo perché il milan ha fatto quello che voleva fatemi sapere la vostra qua sotto con un commento sinceramente sono molto 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 felice per questo milan anche perché si lo posso dire preferisco il milan all'inter ma non tanto per la tifosiria ma bensì per la squadra per tutto vabbè noi ci vediamo alla prossima perché abbiamo altri due tre appuntamenti per oggi nei post partita e quindi ci vediamo dopo ciao milan scudetto ciao 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 ciao